Monsignor Ladaria, grazie per questa intervista con Vatican News. Ecco, cosa significa appunto per lei essere prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel pontificato di Papa Francesco? Prima di tutto grazie anche a lei per questa intervista e per questa opportunità di parlare anche un po' su questi argomenti così importanti. Per me è un affare molto semplice, è una questione di obbedienza. Ora, il Papa Francesco mi ha chiamato, mi ha detto che aveva deciso questo e io ho detto, Santo Padre, se lei lo ha deciso io accetto e non posso dire di più. Dunque questa è per me la prima cosa. Naturalmente è una responsabilità e devo dire che i primi giorni non ho dormito troppo bene. Ma lentamente anche uno si fa l'idea e vede che si può andare avanti e soprattutto sapendo che ciò che il Papa desidera, e dunque non bisogna fare grandi pensieri, la questione è già risolta ed è decisa. Lei è un gesuita come il Santo Padre. Pensa che questo sia di aiuto a comprendere e a collaborare meglio con Papa Francesco? Evidentemente ci sono delle affinità, questo è chiaro, di formazione, di persone conosciute da me e dal Santo Padre, o meglio dal Santo Padre e da me, è certo che può aiutare. Il Santo Padre e io non ci conoscevamo praticamente, ci avevamo visto credo una volta soltanto, prima della sua elezione, quando lui è venuto qui a Roma con gli altri vescovi dell'Argentina per la visita a Limina. E come capita sempre, tutte le conferenze episcopali, quando arrivano alla visita a Limina, vengono anche un giorno alla congregazione della fede. Naturalmente io ero già segretario qui e ci siamo visti e conosciuti per la prima volta in quella occasione. Dunque evidentemente sì, c'è una affinità e questo può diventare molto più facile, il rapporto, comunque devo dire che questo è accidentale. Il Papa e il Papa sia gesuita o no, questo per me non cambia, il Papa e il Papa dunque. È una cosa che può aiutare ma è accidentale, non appartiene alla sostanza. Incontrando i membri della sua congregazione a fine gennaio, Francesco ha affermato che la vostra missione ha un volto eminentemente pastorale. Cosa rappresenta questo nel suo lavoro quotidiano e nel lavoro dei suoi collaboratori? Direi che non è direttamente, non tocca direttamente il lavoro in sé, ma il modo come questo lavoro viene fatto. Che c'è una dimensione pastorale evidente. Noi abbiamo il compito di promuovere e difendere la fede. Promuovere la fede, difendere la fede, predicare la fede è un ruolo eminentemente pastorale, si capisce. Si tratta di promuovere in modo che sia sempre più conosciuta la fede cattolica e quando ci sono problemi anche difendere questa fede. Io tante volte ho sentito dire al Papa Benedetto XIII, che prima era prefetto della congregazione, Cardenale Ratzinger, che noi dobbiamo difendere la fede dei credenti semplici, non la fede dei teologi, questi hanno già i loro mezzi per sapere le cose come stanno. E vi sembra che questa sia un'intuizione molto valida e molto giusta. Dunque queste parole del Papa Francesco hanno un senso molto chiaro. Naturalmente noi ci occupiamo anche delle questioni disciplinari che hanno una grande incidenza anche su tante persone e dunque evidentemente anche qui c'è un ruolo eminentemente pastorale. Certo che questo non vuol dire che noi non dobbiamo studiare molto bene i dossier, eccetera, ma pensando sempre, avendo sempre presente la salus animarum, che è sempre il primo scopo di ogni lavoro. Uno dei punti forti del pontificato, lo sappiamo bene, è la riforma della curia. Cosa rappresenta questo processo avviato da Papa Francesco per la congregazione per la dottrina della fede? Noi non abbiamo ancora ricevuto niente direttamente referente a noi, referente a noi. Quando noi, quando ci diranno qualche cosa, certamente lo accetteremo molti volontieri e coopereremo come in tutte e come sempre. La nostra collaborazione con il Papa Francesco sarà totale, questo è evidente, ma per il momento non abbiamo ancora ricevuto indicazioni concrete. Quando le riceveremo verranno accettate tranquillamente. Siamo ormai prossimi al quinto anniversario dell'elezione di Francesco alla cattedra di Pietro. Cosa le sta donando personalmente questo pontificato come sacerdote e vescovo, prima ancora che come prefetto della congregazione per la dottrina della fede? Certo come sacerdote vedere il Papa così vicino alla gente, così vicino al popolo di Dio. Un Papa con un volto così eminentemente pastorale. Credo che questo per me, per tutti noi, è un invito a essere anche noi, sentirci veramente pastori del popolo di Dio. Il Papa ha detto molte volte che i pastori devono avere questo senso delle pecore, sentire le pecore. E credo che questo ci aiuta molto, tutti noi, a sentirci vicini al popolo di Dio, perché noi siamo al suo servizio. Il Papa dice che c'è una piramide, dice qualche volta molto bene, c'è la base, sono tutti, e poi ci sono alcuni, ma questi sono al servizio dei molti, non al rovescio. E la piramide è inversa. E questo mi sembra un'intuizione molto bella e che credo che tutti noi, se la prendiamo sul serio, ci aiuta tutti e fa che il nostro ministero sia eminentemente pastorale. E questo mi sembra un'intuizione molto bella.